Noi abbiamo accertato quello sulla base della denuncia che abbiamo ricevuto. È verosimile, ma non sarebbe una novità, che un'associazione tipo mafioso contribuisca al giro di usura. Non so se si possa parlare di legame, nel senso che un consigliere regionale che si rivolge ai mafiosi per avere credito si pone in rischio, in caso di elezione, di dover restituire, rendere grazie e ringraziare coloro che gli hanno consentito l'elezione. Il rischio c'è. Dicevo poco fa, forse il costo della democrazia. Nelle realtà medio-piccole questo può accadere. Bisogna vedere però anche qual è il ruolo del consigliere comunale e qual è il livello di coinvolgimento. Non farei di ogni erbo un fascio. La diffusione dell'usura è principalmente la circostanza che nessuno denuncia. Nonostante ci sia la possibilità di accedere ai fondi di solidarietà, accesso che dovrebbe costituire un incentivo alle denunce, le denunce sono sempre un dato assolutamente lontano, lontanissimo dalla realtà. Sono in genere, nell'ambito di un anno, si contano per le tre province sulle dita di una sola mano. Forse questo è comprensibile perché la vittima, l'usurato, ha interesse a conservare il rapporto con l'usuraio, sia se si tratti dell'usuraio della porta accanto, sia che si tratti, forse a maggior ragione, perché intervengono anche altri fattori, se si tratti di esponenti di criminalità organizzata. C'è stata una prima fase nella quale la vittima si è rivolta al credito bancario, lo ha avuto, poi c'è stato un momento in cui l'esposizione era troppo alta e evidentemente gli hanno chiuso i rubinetti, e quindi lui è stato costretto a rivolgersi all'usura di criminalità organizzata per di più. Però probabilmente non aveva più garanzia da dare, l'esposizione era notevole a circa 280 mila euro, quindi non so adesso quale fosse il livello di garanzia che la banca pretendeva, però su quella condotta noi non abbiamo nulla da dire.